L'informazione in 60 secondi. Un altro suicidio sull'isola d'Ischia. Un uomo, Michele Impagliazzo, quasi 54enne, si è tolto la vita oggi pomeriggio a Forio, in località Scentone, a trovarlo un familiare che ha provveduto a chiamare immediatamente i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Denunciati a Ischia tre giovani di cui un minorenne avevano partecipato a una rissa il 24 gennaio scorso all'ingresso dell'istituto Cristoforo Mennella. Il caso della scomparsa e della morte di Antonella Di Massa, questa sera alle 21.10 andrà in onda un'ampia intervista realizzata all'avvocato Francesco Brizzi, legale che assiste alla famiglia in questa fase delle indagini. Ricostruzione, con tre decreti, il commissario Legnini ha dato il via libera alle opere che riguarderanno l'area del casale a Forio, il cimitero di Casa Micciola e l'edificio scolastico Lembo di Larita. Lo sport il calcio, oggi pomeriggio mister Flavio Leo ha guidato il primo allenamento del Barano dopo l'esonero di mister Biaggio Lubrano. Chiudiamo qui, prossima edizione alle 13 domani.